quella di cui parlava prima la presentatrice noi faremo adesso una tarantella tutti quanti insieme noi siamo due o tre coppie quella che vedete adesso a cerchio la facciamo tutti insieme poi andando avanti vi faremo vedere anche quella due che è un po' più particolare come tarantella quindi speriamo di essere di vostro gradimento divertitevi perché la musica è molto molto bella a grido di fuoco il fuocarello un fuochino grazie a tutti 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 grazie a tutti